Quattro sono i nuovi concittadini risultati positivi al covid-19. Due casi fanno riferimento a precedenti situazioni, gli altri due invece non hanno a che fare con il passato, sono in isolamento e si sta ricostruendo la catena dei contatti. Nel contempo ci sono anche due guariti che sommati ai 36 precedenti portano il totale delle guarigioni a 38, mentre salgono a 46 cittadini agropolesi positivi al covid e purtroppo si è registrato nella giornata di ieri, domenica 15 novembre, un decesso. Non ce l'ha fatta Nicola Abate, cittadino di Agropoli, che lo scorso 6 novembre era risultato positivo al covid. Le sue condizioni di salute nella notte dello scorso sabato si sono aggravate e purtroppo è deceduto presso il reparto covid dove era ricoverato in terapia intensiva. Nicola Abate aveva 89 anni e diverse patologie pregresse. Non ci sono parole in situazioni del genere che siano in grado di lenire, seppure solo in parte, il dolore dei familiari. In un periodo segnato da questa tremenda pandemia, questo è un momento di ancora maggiore tristezza che insieme ai familiari e a chi gli ha voluto bene vive l'intera città di Agropoli, lo scrive il primo cittadino da Mocopola in una nota stampa. Si registrano altri due casi positivi anche nel comune di Castellabate, dove il primo rientrava nei contatti di un concittadino, mentre il secondo caso riguarda una persona presidente per la quale è già stata ricostruita la rete dei contatti. Guariti anche due cittadini. Il totale delle persone positive al covid è di 21. Nella città dei templi invece 52, il totale degli attuali positivi con 87 persone in isolamento domiciliare. Continuiamo tutti a rispettare le norme anti-covid a casa, al lavoro e in tutte le nostre azioni quotidiane, facendo particolare attenzione a obbligo di mascherina, distanziamento sociale, sanificazione delle mani, tiene a precisare invece il sindaco Franco Alfieri. Ancora tre persone sono risultate positive al virus nelle ultime 24 ore nella città di Roccadaspide, mentre quattro di quelle che già lo erano sono state giudicate guarite dall'asla di Salerno, a comunicarlo il sindaco di Roccadaspide Gabriele Giuliano. Gli attuali positivi nel comune sono 22. L'augurio del primo cittadino è che presto tutti possano ricevere la comunicazione di avvenuta guarigione.